interviene proprio all'ultimo e salva hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centro campo intercettano bene il pallone ha un'autostrada a disposizione c'è una buona occasione attenzione prova attenzione è riuscito a tenere il pallone basso l'ha spedito in fondo alla rete dove la fare per il portiere assolutamente da rivedere il piazzamento del